Decidendo la partita comunque importante perché era la prima ufficiale, evitando lo spesso di sottomentare la posta, l'emozione è approvata? Assolutamente sì, l'emozione è sempre quella perché segnare sotto la curva è qualcosa di unico, credo anche spiegabile. Siamo contenti perché siamo partiti bene, con una vittoria, adesso ci andremo a giocare la partita sabato. Quali sono le maggiori difficoltà sbocate che avete incontrato oggi, difficoltà legate alla forza dell'avversario, al campo di giorno, alle vostre condizioni? Al caldo sicuramente, il caldo incide tanto sì. Sul piano tattico invece, l'operatore a poco fa detto voglio più personalità dalla squadra. Strocato ad esempio, poco fa detto sul capitolo re, avrei preferito che quello del primo tempo lo giocasse, pur perdendolo, anziché aspettare il tempo. Quale è la tua idea? So che il mister mi chiede questo, però oggi effettivamente il primo tempo è stato veramente duro, perché le gambe facevano fatica a girare e poi dal secondo tempo invece le cose sono andate a migliorare. Però so che il mister mi chiede questo. C'è anche una responsabilità diversa quest'anno, nel senso che quest'anno arriviamo a stato un ricorso in un organico, sostanzialmente anche con i primi già definiti, che stanno spogati, viene confermato, ma viene indicato come uno dei giocatori di un primo metro, che non ha per fatto un'intenzione. Quindi questo salto anche di qualità, di pressione, di responsabilità, di da pressione? No, pressione no, perché se la devi vivere con una pressione, allora penso che è sbagliato Sporta. È il nostro lavoro e accettiamo anche questo. Che ti aspetti dalla forza stagione? Sai che può essere una stagione per te? Sicuramente vorrei fare meglio dall'anno scorso. Sicuramente. In termini anche realizzativi? Sì, sì, assolutamente. Che differenze ci sono spogati rispetto all'anno scorso? Dico se siete più forti o meno forti rispetto allo scorso. Le differenze, oddio, è la prima partita ufficiale, ancora presto puoi parlare di differenze. L'idea, questo lo cerco l'idea all'inizio, adesso, no? È una ricorsa, non so, però non so. Parlare dall'inizio in un progetto di una segretà? È presto secondo me puoi parlarne, perché comunque è la prima partita, dovremmo andare più là e poi vedere. Obiettivi? Tutti quanti mi preoccupano, un detto, salvezza? Sicuramente la salvezza, sicuramente la salvezza, poi quello che verrà in più lo accetteremo. Sì, sì, assolutamente sì, infatti abbiamo un grande gruppo. Sì, sì, grazie. Prego.